Qui siamo in guerra, questa è una guerra tra chi rappresenta le istituzioni veramente, chi si batte ogni giorno, contro i delinquenti criminali. E' in guerra Domenico Pettinari, armato di bandiera tricolore, è tornato a visitare il quartiere popolare di Via Rigopiano. E' una grande vergogna, è uno schifo normativo, un obbrobrio, perché la legge del centrodestra di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Lega, presentata da Marsiglio, prevede che i condannati in primo grado e in secondo grado, per reati gravissimi, quale lo spaccio di droga, possono rimanere nelle case popolari. La legge va a colpire solamente i condannati in terzo grado, senza inserci a stazioni. La proposta del consigliere 5 Stelle è quella di togliere la casa popolare a chiunque riceva una condanna in sede giudiziaria. Se insomma un cittadino delle fasce più povere della nostra comunità, nel corso della propria vita inciampato nella legge, a questo bisognerà levare il tetto da sopra la testa. Non crede che poi potendo levare la casa a chi è pregiudicato, questo possa creare maggiori disagi poi per strada? No, perché già è stato fatto tanti anni fa a Fontanelle, quando si colpirono questi pregiudicati, dato che sono persone ricchissime, persone che guadagnano 4.000 euro al giorno con lo spaccio di droga, persone che si possono permettere altro, quando vengono cacciati loro tornano nelle grandi ville lussuose dei parenti e dei genitori. Una posizione che è destinata a far discutere, secondo alcuni potrebbe sembrare una generalizzazione troppo semplice nell'approcciarsi a questioni delicate come questa. Ma il soldato Pettinari respinge le critiche al mittente e tira dritto per la sua strada. Mi stanno accusando a me di essere un giustizialista, no io sono un legalista. Loro che invece vanno in televisione e dicono di voler cacciare i delinquenti, i criminali poi alla conta dei fatti, ecco che cosa fanno nelle segrete stanze. Questa è una vergogna.